ciao a tutti oggi installazione ad alta quota infatti siamo a carona alle sette e mezza di mattina pronti prestissimo perché c'è l'heliport dobbiamo andare dove dav più o meno che sono dietro di noi dietro di noi quindi installazione alta quota carichiamo l'armadio di rete tutto quello che ci serve partiamo in elicottero fantastico il volo in elicottero ora aspettiamo le altre consegne per fare i nuovi giornata spaziale neanche a cercarla ok tutto scaricato e adesso iniziamo i lavori ma prima un po di panorama con questa giornata fantastica vale assolutamente la pena iniziamo subito serializzazione degli access point controlliamo come si comporta la rete wifi esistente e andiamo a preparare poi il nuovo router freaks box fissiamo bene gli alloggi delle antenne come vedete qua antenne umts e di qua quella wifi dove andremo attaccare la nostra prolunga per uscire in facciata sfruttiamo l'altimetro di apple watch che ci dà 158 metri ovviamente non poteva mancare un pranzetto tipico dal rifugista massimo nava insieme a tutti quelli dello staff dovete per forza andare a provare questi piatti subito dopo pranzo continuiamo con le installazioni test di rete in esterno per vedere il wifi long range dove arriva abbiamo anche un nuovo workmate che si sta abbeverando una volta installato tutto il wifi procediamo con la sostituzione e l'implementazione del nuovo armadio di rete e per la prima volta durante il mio lavoro tra un upgrade e l'altro posso fare un giro con questa vista bene installazione riuscita la rifugio laggi gemelli prima che faccia buio sto facendo un giro per vedere quanto è figo qui il lago e il posto perché comunque sia oggi abbiamo trovato una giornata fantastica e niente poi passeremo qui la notte domani vediamo se tutti gli aggiornamenti e quant'altro tutto a posto tutta la nuova rete tutta la parte di fiscale non fiscale più tutta la parte per le comunicazioni e poi arriva l'elicottero a prenderci e torniamo in ufficio ciao 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 ciao